Qualche dichiarazione? Non si può? Sì, nel primo tempo. Paura della fanno? Saluto tutti i miei fanno. Non è che abbiamo molti. Non c'hai da baciare la fede, il braccialetto? Non c'è. Il tatuaggio qua sul polpaccio di Pantani. Di Pantani? Un zoom sul nano che ho segnato adesso. Dov'è il nano? Mi raccomando, dai. Vi ammanno il nano. Mi sto facendo un po' trascinare. Roberto mi intenta il passaggio. No, ma è preferibile. Non c'è un spallone che anche il Roberto si giocava in Sipiasi. Che ti lanciai. Va bene. L'inglese te l'ha detto. L'inglese te l'ha detto. Il traduttore. Io sono in panchina. Ha qualche dichiarazione da fare, no? Sì, sono in cazzatonero che sono malato e mi ha punito. Mi ha messo in panchina. Tra un po' mi metteva anche a buccare l'erba. Hai provato col pianto? Mi hanno punito. Mi hanno mandato a cercare un pallone inesistente. Un'ora cercando un pallone inesistente. Ora lo mettiamo a fare le pizze. Così rende di più sicuramente.